Speravamo qui in prefettura di trovare una soluzione ma anche oggi non abbiamo trovato nulla. Non abbiamo trovato una soluzione alla corrisponsione delle nostre retribuzioni che ormai sono diventate sette arretrate e non riusciamo più a capire come prenderle se non con un'azione legale nei confronti della titolare dell'associazione e non abbiamo trovato neanche una soluzione che era forse la cosa più importante alla riapertura immediata della struttura. E in un vicolo cieco la vertenza della piscina comunale di Montorio i cui lavoratori da sette mesi non percepiscono lo stipendio. Questa mattina il tavolo di confronto a cui ha partecipato anche la società che gestisce gli impianti, la MSP Abruzzo, si è spostato in prefettura a Teramo. Non ci sono i requisiti di legge per un commissariamento secondo il prefetto e il comune ha bisogno di 30 giorni per risolvere il contratto. È chiaro che poi cercheremo di fare un'amministrazione diretta per almeno un anno e poi valuteremo il bando di gara che porterà a una nuova gestione. Per i lavoratori dunque si annunciano tempi lunghi per il pagamento delle mensilità arretrate. Intanto si cercherà la via della cassa integrazione. Ci sono rapporti di lavoro complicati, diciamo comunque sia atipici, che non rientrano in quella che è la normativa della gestione degli ammortizzatori sociali e nemmeno delle ammortizzatori in deroga. Martedì prossimo c'è il CICAS. La speranza è che già nel tavolo di martedì le parti sociali sollevino il problema e che la regione prenda l'impegno di affrontare la situazione. Abbiamo avuto la conferma che l'MSP Abruzzo difficilmente riuscirà a pagarci in tempi brevi, anzi probabilmente non lo farà. I tempi sono veramente lunghi, si è parlato addirittura di gennaio 2017, quindi un tempo inaccettabile per noi ex lavoratori dell'MSP.